Allora prima di analizzare la notizia ci tenevo a enfatizzare il lavoro svolto dai due piloti Ferrari questo perché sia Carlos Sainz ma anche Charles Leclerc si stanno impegnando molto per ribaltare una situazione non semplice e si stanno cimentando in settimane di lavoro non stop voglio porre attenzione su questo fatto perché di solito un po' tutti me compreso siamo bravi a estrapolare frame dove il monegasco è sconsolato o il monegasco è arrabbiato in realtà Charles Leclerc nella divisione dei turni si è mostrato disponibile a raddoppiare le sue ore di lavoro in teoria al simulatore le settimane erano state scandite per Carlos Sainz e per Charles Leclerc in prima settimana per lo spagnolo e seconda settimana per il pilota monegasco Leclerc si sarebbe dimostrato disponibile nel fare oltre alla settimana base anche un'altra e visto che ogni secondo è buono per accostarlo a Mercedes o fuori dalla Ferrari prendiamo questa notizia un po' come una risposta Off Camera ha dimostrato quanto ci teneva la Ferrari è un po' mi dispiace perché questa notizia poteva uscire fuori ci tenevo a riportarvelo a questo punto possiamo dire che la fonte più o meno sono io è una fonte a me vicina posso darvela per certo abbastanza peccato perché si fa notizia su tanti drammi quando questa potrebbe aiutare a risollevare il morale poi altro punto il ricorso Ferrari Tonio perché non hai parlato del ricorso Ferrari Carlos Sainz, Alonso e quella storia lì perché a parer mio non c'era molto a quel grapparsi Sainz era in una posizione difficile da salvare però sono contento che comunque Ferrari si sia mossa perché dico ciò? in molti ha reputato la scelta di Ferrari non proprio fantastica in realtà ha comunque lanciato un messaggio un messaggio di maggior coerenza nei giudizi il che non fa male in una federazione che spesso prende scelte ad capocchiam e in aggiunta hanno anche difeso davanti a tutti Carlos Sainz dimostrando quindi a quest'ultimo di avere massimo supporto il team l'ha difeso davanti a tutti ma allo stesso tempo ha corso il rischio di fare una brutta figura la FIA ha reputato le argomentazioni di Ferrari non proprio fantastiche e quindi l'ho visto un po' come un test una sorta quasi di campanello di allarme nel caso avessero vinto il ricorso forse era qualcosa in più ma di base ha mosso il tutto in maniera politica secondo il mio punto di vista ma adesso passiamo alla notizia del giorno il pilota Monegasco è tornato a Maranello per deliberare la monoposto che vedremo nel GP a zero e che dovrebbe disputare quindi le prove libere la fonte è motosport.com articolo scritto da Franco Nunez mi raccomando solita storia prima di iniziare i dati al simulatore bisogna prenderli con le pinze abbiamo visto che questi possono giocare brutti scherzi non solo a Ferrari ci attacchiamo sempre molto a quest'ultima anche Mercedes ha avuto problemi al simulatore anche al pin, molto al pin ma tornando a Ferrari il menu del gran premio di Baku prevede ali a basso carico e come porzione principale delle pance con delle fiancate più rastremate più scavate nella parte inferiore questo per ridurre la resistenza all'avanzamento ma anche per portare più flusso sul marciapiede del fondo tanti dubbi sorgono spontanei perché rischiare quest'ultimo in un gran premio dove hai a disposizione soltanto una prova libera ricordo che il gran premio dell'Azerbaijan ha la sprint race quindi hai solo FP1 prima del parco chiuso quindi perché osare ci sarà sicuramente una motivazione di base mi farebbe piacere anche solo che mi dicessero perché non abbiamo tempo e quindi dobbiamo ottimizzare lo accetterei c'è comunque da dire che in questo circuito le scelte per il setup sono forse un pelo più semplici Baku è una pista molto veloce che unisce un tratto guidato dovremmo quindi avere soluzioni già decise all'inizio dello sviluppo alla posteriore scarica e adeguamento dei flap anteriori così da garantire un buon bilanciamento in pista sta comunque di fatto che in un format così tirato è una scelta rischiosa e osare con un pacchetto aerodinamico che è arrivato anche prima del previsto potrebbe portare problemi ma potrebbe anche essere un bel jolly precisiamo però che non sono le pance nuove di cui si è parlato forse un paio di video fa quelle come da protocollo verranno ridisegnate e portate in occasione del gran premio di Barcellona quindi queste modifiche le vedo più un'evoluzione nella parte dell'impianto del raffreddamento le masse radianti sono quelle sono dei preparativi a quegli aggiornamenti là ma aspettiamo ancora quel qualcosa di più corposo però adesso stiamo mangiando al ristorante in teoria qualcosa di importante dovrebbe arrivare ad avvalorare questa possibilità ci sarebbe anche il fatto che l'eclerca avrebbe provato al simulatore una mappatura più spinta ovviamente prendiamo i dati che ci arrivano dalla Jess con le pinze i riscontri sarebbero molto positivi e io ipotizzo che con molto positivi ci si sta rapportando Aston Martin o Mercedes penso sia abbastanza difficile ricucire da Red Bull il gap è importante e abbiamo analizzato i tempi sul giro l'abbiamo fatto con Max Verstappen e Carlos Sainz però se la gestione sportiva ha valutato possibile e soprattutto fattibile rischiare questi aggiornamenti prima e portarli a Bacu ragazzi un motivo ci sarà no non penso ma voglio anche sperare non stiano correndo un rischio inutilmente però fatemi sapere la vostra nei commenti perfetto ho letteralmente detto tutto adesso vi invito ad iscrivervi al canale a attivare la campanellina delle notifiche seguite i miei social trovate tutto in descrizione io vi saluto da Tonio era tutto passo e chiudo e chiudere la campanellina delle notifiche